Benvenuti su Ultima Hora News. Nel video di oggi vi sveleremo quali sono state le reali motivazioni dietro la fuga dalla casa di Ilaria Clemente. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. La decisione di Ilaria Clemente di abbandonare temporaneamente la casa del grande fratello ha scatenato un'ondata di curiosità e ipotesi tra gli spettatori del programma. Il motivo ufficiale del suo abbandono, tuttavia, non è stato subito comunicato chiaramente, lasciando un alone di mistero e suscitando ulteriori speculazioni su possibili sviluppi. Tra le voci che hanno iniziato a circolare con insistenza, una delle più diffuse riguarda la possibilità che la giovane concorrente sia in dolce attesa. Nonostante il comunicato ufficiale del reality show non facesse menzione esplicita della gravidanza, questo non ha fermato le speculazioni sui social, dove il dibattito si è fatto acceso e virale. Alcuni spettatori si sono mostrati critici nei confronti della gestione del programma, paragonando la casa del grande fratello a un albergo, dove i concorrenti entrano ed escono a loro piacimento. La frase, porta girevole, è stata ripetutamente usata sui social, per descrivere la facilità con cui i partecipanti sembrano poter lasciare e rientrare nella casa, cosa che per alcuni ha minato l'autenticità del format. Molti fan del programma sono rimasti infastiditi, sottolineando come questi cambiamenti e uscite inaspettate possano alterare l'esperienza e la naturale evoluzione delle dinamiche della casa. Nonostante le speculazioni sempre più insistenti e il tam-tam mediatico, non ci sono state ancora conferme ufficiali sulla presunta gravidanza di Ilaria, lasciando aperta ogni possibilità. Le voci hanno sollevato anche questioni su come il programma gestisca situazioni simili e se altri concorrenti possano in futuro ricevere lo stesso tipo di trattamenti particolari. Al momento resta l'incertezza sul possibile ritorno di Ilaria nella casa e, soprattutto, se le voci che la vedono incinta troveranno conferma nelle prossime puntate, aumentando ulteriormente l'interesse del pubblico. E tu cosa ne pensi di Ilaria Clemente? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.